musica io ho il giardino, il lancio, ma ci sono dettagli da mettere dentro il tuo è più veloce questo è quello messo, mi rende in aria ma i fessi sono l'unica cosa era una vera e un video io ho due e due guarda che d'uomo io impendevo la mascherina dei denti ah la mascherina, prima, no dopo no ma ci sanno che perché? la prima volta è andata da Roma, la prossima partita è un barbiella allora, mangio una sabina ne avevo lasciato dentro il bicchiero ecco, la prima volta è andato con le artiste quella è la mia sabina, è la sua, è la mia sabina andiamo a Borges tu lo vedi, la prima volta è andata e ora è andata da fare ah, che si può fare ah, che si può fare ah, che si può fare sono erano non so eh, c'è questa radio, Gabriele? eh? è appicciata una radio? no, è appicciata una bravo, ciccio bravo Grazie per la visione.